Il pallino rosso grande che vedete, in alto, è il primo utente, il primo utente che ha dato la notizia, in un qualche modo, poi ci torniamo sopra. Questa però è la mappa degli utenti interagenti. Questi sono gli utenti esposti, questi sono gli utenti interagenti. Questi sono quelli che effettivamente hanno scritto o commentato qualcosa rispetto alla morte di Mike. L'attenzione è che ogni utente poi può portare tanti pallini con sé e ricreare questo scenario qua. La cosa sulla quale vorrei portare l'attenzione in questo momento non sono i due grandi hub ai lati, ma è la mappa, l'enorme quantità di singoli pallini che stanno inutili, che stanno al centro.